Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi, oggi succederà un qualcosa di incredibile Xiao torna a parlare di hacker Torna a parlare di gente cattiva e malvagia Che su Roblox non ha fatto cose belle Ma sappiate che oggi si parlerà di gente che molti pochi di voi conoscono La cosa più non italiana del mondo Detto ma va bene lo stesso Parleremo di un po' di giocatori Tenetemi forte perché vedete che la cosa è molto grave Allora, ci tengo a precisare una cosa molto importante Che questi video, cioè questi giocatori li ho scoperti tramite dei TikTok Perché ho imparato che dai TikTok di Roblox effettivamente si scopre qualcosa Ho scoperto che c'è da poco un nuovo hacker E il suo nome è MukamukyuJQ Tipo una cosa del genere E questo tizio ci spiega che cosa ha fatto Andiamo a vedere, io non ho mai visto il video quindi lo scopriamo insieme Vediamo Quindi nuovo hacker su Roblox, attenzione Esatto Muk, sì sì lo chiamano Muk Vabbè, chiamiamolo Muk pure noi perché già Ok Ok, praticamente è un tizio che ha hackerato Pet Simulator X Uno dei giochi più belli e esistenti su Roblox Sì sì, bellissimo Ok, praticamente rubava i pet ai bambini senza scambi Cioè in poche parole Pet Simulator X è una sottospecie di Adopt Me Vabbè stessa roba dai Mai giocato Pet Simulator Ah, ne ha parlato anche Kreecraft Greve, sì, greve, sì Ok Cioè aspetta non ho capito Ha hackerato Kreecraft What the fuck Ha hackerato Kreecraft, sì Non ci credo Non ci credo Non la sapevo questa cosa Ok ragazzi Non giocate mai più a Pet Simulator No scherzo Giocate a Pet Simulator X Ma se vedete questo tizio in giro Attenzione Attenzione perché è molto pericoloso Allora questo è il suo profilo di Roblox Io tra l'altro la cosa che non capisco è Cioè mi fa ridere una cosa Cioè io se penso che a Tentacroll hanno eliminato il mondo che aveva dedicato a me Gli hanno bannato Poi arriva questo tizio Che letteralmente hacker alla gente Hacker a uno dei giocatori, dei giochi più famosi di Roblox E non gli fanno assolutamente niente Allora è un player del 2020 Tra l'altro non capisco perché mi dice Ultima volta online un anno fa Quindi proprio nuovo, nuovo, nuovo Non è come hacker l'anno scorso Vabbè ci sta 7000 follower 6 profili seguiti Tra l'altro c'è pure un mondo Che adesso ci andremo a giocare Anche se un pochettino di paura ce l'ho Ma non credo che succeda qualcosa Ah un altro profilo E qui Vedi che già 10 mesi fa Attenzione ragazzi Attenzione Perché ci sono due profili Quindi Very relaxing Luogo di ritrovo E poi abbiamo questo Che è un'esperienza proibita Quanto scommettete che giocando a questo gioco Mi ruberanno tutti i soldi che ho nella carta? Speriamo 0 euro Perché se no penso sia un problema Andiamo a provarli però tutti e due Allora prima proviamo Luogo di ritrovo Che io onestamente da quello che c'è scritto Penso Vabbè che è un hacker Quindi magari non lo è Però credo che sia tipo una roba molto chill Tranquilla Perché poi hangout Sarà uno di quelli che tipo fai dei No non è proprio hangout Devo dire che effettivamente qualcosa di strano c'è A parte che è tutto rosso e fa paura Ma dove siamo raga? È stranissimo sto gioco Dove sono raga? Aiuto A stento vedo ve lo giuro Già che sono cieco di mio io Praticamente cos'è tipo un mondo tutto rosso? Very chill game? Ma non lo so in realtà Se è un very chill game Un po' paura la mette eh Però fondamentalmente non credo ci sia nulla C'è un posto in cui puoi andare con i tuoi amici Sì sì In cui puoi andare con i tuoi amici Cioè no Non ci vai con i tuoi amici Lascia perdere Non c'è niente comunque La musica un po' Fa un po' paura la musica eh Molto Anziogena Però non c'è niente Non c'è niente Si ti toglie praticamente tutto l'avatar Secondo me il messaggio del gioco è che lui vuole delle persone nude Penso È un pazzo schizzato Ci sta Andiamo a provare però l'altra Che si chiama esperienza proibita Questo presumo che sia un secondo account che lui si è creato Perché c'ho paura di essere bannato col primo Vediamo esperienza proibita che cosa ci dà Connessione al server È la stessa roba di prima in prima persona What the fuck Dove siamo raga Ma raga ma che è sta cosa Mi si muove malissimo il mouse Raga non sto muovendo il mouse È stranissimo giuro su dio Guarda Non riesco ad andare avanti Non Cos'è Mi ha crashato Roblox Mi ha crashato il gioco Aiuto Credo mi convenga uscire Per un sì o no Chiudiamo questa cosa Non vogliamo più sapere niente Se scompaio dopo questo video Sapete cos'è successo Devo smetterla di fare questa roba Comunque io Cioè Devo smetterla Faccio i video a scopo documentaristico E va a finire Che nel sedere Dove non batte il sole un giorno Me la prenderò io Ma Un saluto a Mac Per favore Non hackerarmi Io ti voglio bene Non so perché questa gente Faccia Cioè Raga Io quello che mi chiedo No Scrivetemelo nei commenti Secondo voi no Nella testa di un hacker di Roblox Cioè Come si attiva il pensiero Nel senso Cioè uno si sveglia la mattina e dice Oggi voglio hackerare Pet Simulator X Rubare i pet E i bambini E farli piangere Oppure tipo C'è un qualcosa di più profondo Dentro Da sotto Tipo non lo so Una roba Un trauma Una cosa Cioè Qual è il problema Secondo voi Che spinge queste persone A fare questo Sono molto curioso Fatemelo sapere Con un commentino qua sotto Tra l'altro Il nostro amico Mac Che tanto amico Poi in realtà non è Ha anche Un canale YouTube Canale YouTube E andiamo a vederlo Il canale si chiama Argentum Exploit Ok dice praticamente Che fa robe di hacking E cose simili Comunque un po' di views Le ha fatte E il video con più views È Oddio Mi sa che qua Oddio Mi sa che qua va su Pet Simulator X Oddio Ma perché parla come se Avesse il microfono Dentro la bocca Raga Qual è il problema Esattamente Non sto capendo Ma poi si ma Quanti anni hai Per giocare a Pet Simulator X Cioè No flame Però nel senso Cioè Boh Vabbè Cioè Praticamente Cos'è che dice Che è diventato famoso Senza volerlo Mazzino Ma se ti metti a rubare I petti dei bambini Ma non ti fai Schifo Poi si scopre Che è tipo Uno degli hacker Più famosi Degli ultimi tempi Su Roblox Ha 5 anni Comunque un sacco di gente Schive il mio hacker Preferito Boh Non lo so Comunque assurda Questa cosa qui Passiamo alla prossima Persona Se già iniziamo così La vedo veramente grigia Today Allora ragazzi La prossima persona Di cui andremo a parlare Si chiama O si chiamava Paley Scritto Pa Y L E E Y Era una tiktoker Io so solamente questo Quindi voglio scoprire Effettivamente Sempre tramite tiktok La sua storia Che cosa è successo Vediamo Ovviamente in inglese Ma noi cercheremo Di capire il capibile Vediamo 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 Vai Paley Ok Ok Quindi una tiktoker Di roblox Ok 2 milioni e 600 mila Follower Beh 2.6 milioni Follower E beh Ok Quindi praticamente Faceva tipo Gli edit Cioè tipo Quelle robe Tipo degli avatar Di roblox Con la musica Ok Abbastanza comune Però madonna Per avere 2 milioni e 600 mila Cioè Ok 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 Praticamente Tra tutti gli edits Che postava Alcuni video Erano molto strani Ma strani Tipo Si è sposata Ed è rimasta Incinta nel gioco Ok Pensavo che solo in Italia Succedessero ste cose Ottimo In che senso Non ho capito No no Aspetta 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 Ci deve palesemente Essere qualcos'altro Però Ok Ok Quindi era molto Schillata Nell'editing E ok Ma cosa Finchè nel gioco È ok Raga No Ok Iniziato ad essere Sus Tipo Per favore puoi evitare di gridare Sto registrando Vabbè Vediamo Sì effettivamente erano un po' strani I ball Raga Ma qua ci sono tutti avatar nudi dietro Un po' su sera Anche lei Anche il suo avatar era nudo Oh mio Dio Oh mio Dio Cos'è sta roba Comunque facciamo un milione di like Per sta roba Quindi aveva anche un fidanzato Ma scusami Ha un profilo Sta tizia Paley Roblox Cerchiamola Vediamo Oddio Si possono vedere i suoi video Raga fa un bordello È questo Ho paura Di Più che sus Sono strani i video Onestamente Cioè Ok Questa è una roba Veramente non sus Ma molto cringe Molto cringe Molto cringe Ma come fai a fare gli edit Con gli avatar nudi di Roblox Alla brava sicuramente l'editare Però Un po' strano Aspetta Allora ragazzi In sostanza In sostanza Allora dietro quei video Molto cringe Diciamo che A quanto pare C'era forse qualcosina di più È una tizia Dal nome di It's NERP YouTube Che ovviamente noi salutiamo Ha fatto un video In cui scrive La verità Dietro Paley Deve essere cancellata Quindi proprio Qua la storia è veramente grave Dura due minuti Quindi voglio vederlo Ok Quindi sembra Sembra un TikTok Praticamente Ok Quindi c'è qualcosa Effettivamente Ok Bene Un milione di follower Sì due volte Ora ne ha tre quasi Ok Ah ok Praticamente La gente Sospettava Che lei Ha cambiato nome Praticamente Perché prima Perché prima Si chiamava Basily Una roba del genere Sì Per effettivamente Il nome è molto simile Ok Una cloud chaser Quindi una tizia Che voleva fama Ok Ok Praticamente La tipa Basily La tipa di prima Postava praticamente Dei video Molto sus E molto Dei video Molto inappropriati Quindi fondamentalmente Diciamo che non era proprio La persona migliore Del mondo Ok Si ha preso Ed ha quittato E quindi poi si è fatta Sto profilo nuovo Esatto Sì vabbè L'abbiamo visti prima Che cringio Madonna Mi cringio Solo a vederli Comunque Vabbè Questa praticamente Sarebbe una specie Di tentacroll Che ce l'ha fatta Nella vita Raga C'è una tentacroll Che è diventata Abbastanza famosa Su tiktok Che ha fatto Un milione di follower Bene Chissà magari tentacroll Diventerà così Un giorno Ok Si molto cringio Comunque sti video Madonna Schippa Togli Non li voglio vedere I tipi di roblox Nudi Cosa Ha fatto una voice reveal Quindi Si sente la sua voce Grave Ma non credo Sia la sua voce Veramente Tutta montata Sì Anche la voce Cringe Comunque Ok Si è uguale Letteralmente Dai E lei E lei Cioè Ma come Ma Ah ok Avevano le bio Di tiktok Molto simili E anche i nomi Ovviamente Si 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 Sì Raga Dai Palesemente Dai Palesemente Si guarda anche lo stile Di disegno Delle foto profili Uguali Molto simili Molto Molto simili Ah ok Quindi anche nei video Diciamo che faceva Erano molto Molto Simili Si Dai raga Palese Da lei Si palese Palese Vabbè ma questa secondo me Gente tutta costruita Comunque che fa ste robie apposta Cioè Boh Secondo me Natizia fissata Con i tipi di roblox Nudi E basta Cioè Nient'altro Secondo me Una Ti ripeto Una specie di tentacroll Però Tipo Più 18 Esatto Esatto Si si Molto simile Cioè Palesemente sono uguali Palesemente uguali Non lo so Boh Raga Ditemi voi cosa ne pensate Boh Secondo me è semplicemente una psicopatica Che Boh Ripeto Comunque Da un lato sono felice Perché penso che Ci sono più tentacroll Nel mondo Non che sia felice Del fatto che ci siano Perché secondo me Queste persone Come dice La famosissima nerpa Dovrebbero essere cancellate Perché fondamentalmente Sono persone Comunque Che mettono Molta gente A disagio E soprattutto Sapendo che Comunque Roblox È un gioco Che viene giocato Principalmente Da ragazzini Minorenni Io eviterei Di postare roba Con gente nuda Ma insomma Chi sono io Per vietare A queste persone Di fare ciò Quindi io per questo video Comunque vi saluto Spero che vi sia piaciuto Più guardo questi video Più parlo di queste persone Più mi rendo conto Che sono veramente contento Di fare video Normali Tra virgolette O comunque video In cui sbugiardo Le persone E dove le prendo Tra virgolette In giro In modo ironico Non lo so Fatemi sapere la vostra Ragazzi Ci vediamo Alla prossima